gli insetti gli animali impollinatori sempre animali bruttissimi cattivi allora ho pensato di renderli molto felici gioiosi perché senza di loro non sarebbe la vita sulla terra specialmente per i più giovani ma anche per quelle vecchie signore che amano schiacciarli con la loro ciabatta flora d'ora ci nebbia con profumi speziati e floreali che ci porta in un altro universo e così i nostri animali più curiosi misteriosi del mondo terrestre come giacinto ibiscus lavandola amorfo fallus fiordaliso ficus e rosalba animali che vivono tra i fiori e che ci portano i nuovi ammalianti paesaggi fantastici andyx ha deciso di creare questo evento dedicato al mondo dei impollinatori dei fiori in connessione con il lancio della nostra nuova release flora d'ora che nasce proprio dalla passione della nostra master distiller lazily grazie per i fiori è proprio lei si è accorta che le api andavano su alcuni fiori rispetto che ad altri ha iniziato a fare tutto uno studio e ha scelto proprio questo bouquet per adagiarlo sulle nostre 11 botaniche dell'endrix original da qui nasce questo evento la celebrazione dei fiori e di questi piccoli esseri che sono molto molto importanti per il nostro ecosistema non è magica metamorfosi grazie mille Matteo per aver collaborato con noi anche quest'anno grazie mille Matteo per aver guardato con noi grazie mille Matteo per aver guardato con noi grazie mille Matteo per aver guardato con noi